Nuovo blitz dei Nassi in basso molite nella maglia degli inquirenti rimborsi gonfiati per prestazioni sanitarie in un noto centro privato convenzionato con l'ASREM. Quattro ai dipendenti amministrativi a cui è stato notificato l'avviso di garanzia. Scontri interni ai partiti per le alleanze elettorali. L'Udc si spacca sulla virata sinistra. Campobasto Fratelli d'Italia abbandona Saluppo. A Termoli di Brino dice no a Forza Italia e correrà con il nuovo centrodestra SEL Silura Sbrocca. Il numero uno dell'Agenzia regionale di protezione civile passa il testimone a Sandra Scarlatelli, ancora una donna al vertice dell'ente di via Sant'Antonio Abate, fino al 30 giugno. In serie di Liserne avviene penalizzata di due punti e condannata la retrocessione eccellenza due giornate dalla fine del campionato e con il Campobasso campione e bagarre in chiave salvezza. Ben trovati con l'informazione di Molise TV. Come avete sentito dai titoli, altro terremoto all'Asrem finita nel mirino degli uomini del NAS. Non è la prima volta che i carabinieri guidati da Antonio Forciniti su mandato della procura entrano negli uffici di via del Molinello a Termoli. Sotto la lente dei militari alcuni rimborsi irregolari per prestazioni mediche. Quattro gli avvisi di garanzia. I dettagli nel servizio. L'azienda sanitaria regionale di Termoli nel mirino dei carabinieri del NAS, il nucleo antisofisticazione di Campobasso, questa mattina gli uomini del capitano Antonio Forciniti hanno perquisito e acquisito fascicoli, ricevute atti contabili al secondo piano dell'edificio di via del Molinello. Documenti relativi alla spesa sanitaria e presunti rimborsi illegittimi. Quattro gli avvisi di garanzia notificati ad altrettanti dipendenti e responsabili del centro medico convenzionato. L'ipotesi di reato sarebbe quella di truffa anche se i particolari dell'inchiesta non sono stati divulgati per il momento. Gli accertamenti e le notifiche di oggi rientrano nell'ambito di quella che il NAS ha definito un ampio monitoraggio della spesa sanitaria che si sta portando avanti al fine di fronteggiare il grave deficit finanziario della regione molise. L'ASREM dunque nuovamente nella bufera. Il blitz coordinato dalla Procura della Repubblica di Larino su disposizione del giudice per le indagini preliminari infatti segue a distanza di 48 ore il blocco dei conti correnti a carico di tre responsabili di area tecnica degli ospedali di Termoli e Larino. Indagati sempre per l'ipotesi di truffa in quanto avrebbero percepito per anni una presunta non dovuta pronta disponibilità a un danno al servizio sanitario che ammonterebbe a circa 100.000 euro. Cambiamo argomento, ci occupiamo ora di elezioni amministrative, ultimi colpi di scena prima dell'inizio ufficiale della campagna elettorale scontro all'interno dell'Udc dopo la svolta sinistra mentre Fratelli d'Italia abbandona Pino Saluppo e dentro sabato a mezzogiorno bisognerà presentare le liste. Sentiamo. Motori pronti ad accendersi a Campobasso. Liste candidati dovranno essere presentati in queste ultime 48 ore. Il 25 aprile dalle 8 alle 20 e sabato fino alle 12 in comune. Nonostante i tempi stretti, veleni e colpi di scena sono all'ordine del giorno. La netta virata a sinistra dell'Udc, ad esempio, ha scontentato una parte del partito. L'ex commissario Luigi Velardi, ad esempio, ha usato parole di fuoco verso i nuovi vertici centristi. Non riesco a cogliere una ragione che sia una che spieghi a me stesso e agli aderenti al partito quali siano i passaggi politici e programmatici che portino a riconoscersi nelle strategie e nei valori della coalizione di centrosinistra e che giustifichino la biura delle alleanze strette per tanti anni e costellate da numerosi successi, tuona l'ex assessore dell'Aggiunta Iorio. Un'alleanza in cauta, dunque, soprattutto perché l'Udc e le europee, che si terranno lo stesso giorno delle amministrative, si presenterà in squadra con il nuovo centrodestra che appoggia Michele Scasserra. E proprio dal coordinatore Alfagnano Ulisse Di Giacomo è arrivata l'ultima provocazione, boicottare l'Udc alle elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo. Non va meglio a Pino Saluppo, abbandonato a poche ore dallo start ufficiale della campagna elettorale da Fratelli d'Italia, uno degli alleati più importanti della sua coalizione. Ad annunciare l'addio è stato proprio il vertice molisano Filoteo Di Sandro. Fratelli d'Italia non parteciperà alle amministrative di Campobasso a seguito di difficoltà organizzative e divergenze nella linea politica da seguire. E così Saluppo vede ridursi da 3 a 2 il numero delle liste a suo sostegno. A fare la parte del Leone, invece, sarà Antonio Battista con ben otto compagini, fra cui anche Sel, con i quali nelle scorse ore c'è stato un incontro chiarificatore. L'intesa, inclinata dopo l'ingresso dell'Udc, è stata rinnovata sui programmi e probabilmente i vendoliani sono riusciti a blindare anche la rappresentanza all'interno della nuova giunta comunale in caso di vittoria di Battista. Infine, il polo civico di Michele Scasserra sta definendo gli ultimi dettagli sulla sesta lista che si aggiungerà alle 5 già pronte. Ne avranno una sola gli altri aspiranti primi cittadini, l'uscente Gino Di Bartolomeo, Adriana Izzi e il pentastellato Roberto Gravina. Ed è ufficiale, segnale civico, rompe gli indugi e scende in campo a sostegno di Antonio Battista. Il direttivo del Movimento ha deliberato l'apparentamento con il centro-sinistra alle elezioni amministrative di Campobasso, alla base della scelta maturata all'unanimità la totale condivisione con le altre forze politiche delle linee programmatiche per il governo della città. Nel centro-destra nessuna sintesi, sono andati a vuoto i tentativi di trovare un punto in comune tra Antonio Dibrino e Michele Marone, che correranno quindi separati alle prossime amministrative. Intanto proprio Dibrino ha presentato la sua squadra per le prossime elezioni. Vediamo. Nel centro-destra non si è riusciti a fare sintesi. Vani tentativi abbozzati da Dibrino da una parte e da Marone dall'altra. I due candidati alla poltrona di sindaco ci hanno provato, forse hanno fatto solo finta. Ma ora è di dominio pubblico che il centro-destra non sarà compattato in una coalizione. Nell'incontro di ieri, che sia Marone che l'Udc hanno disertato, questi ultimi perché già in accordo con il centro-sinistra, Dibrino ha preso atto della situazione e ha presentato la propria squadra per le prossime amministrative. Una squadra formata da ben sette ex consiglieri della sua maggioranza e che hanno fatto quadrato intorno all'ex sindaco. Per Dibrino il mancato accordo con Marone è stata una chiara occasione persa per i moderati e per il centro-destra. Credo che il candidato Marone e la coalizione che lo sostiene abbiano perso un'opportunità importante. Noi siamo convinti comunque di fare un buon, se non un ottimo risultato elettorale, perché abbiamo delle liste con già consiglieri comunali ed ex assessori, quindi mettiamo insieme esperienze di rinnovamento, partiamo da una base elettorale di consenso elettorale importante. Qualcuno dice che due liste sono poche, io ho vissuto l'esperienza delle dieci liste, io credo che sia più un discorso di qualità che di quantità, per cui preferisco questa formula piuttosto che quella delle tante liste che poi non ti permettono e non ti consenno di amministrare la città. Per Dibrino quindi meglio una squadra esigua che si conosce bene che una formata da troppe liste. Ed anche l'ex sindaco della città Basso Molisana ha di fatto risposto presente alle prossime amministrative, con un centro-destra che dunque porterà due candidati distinti. Dal comune di Termoli a quello di Porto Cannone che potrebbe rischiare il fallimento è quanto si legge nella delibera numero 46 dello scorso 17 aprile approvata dalla Corte dei Conti del Molise. Nel dispositivo si evidenzia un disavanzo di gestione relativo al bilancio 2011 pari a 274 mila euro. Per scongiurare l'insolvenza il sindaco Luigi Mascio e la sua amministrazione hanno 60 giorni di tempo per adottare tutti i provvedimenti idonei per rimuovere le irregolarità e ripristinare gli equilibri di bilancio. Con l'ingresso dell'Udc nella coalizione di centro-sinistra, SEL lascia l'alleanza sincrina così a pochi giorni dalla presentazione delle liste l'asse che ha fatto le primarie. Sentiamo. Continuano i colpi di scena a ridosso delle amministrative termolesi con l'ingresso dell'Udc all'interno della coalizione di centro-sinistra, un ingresso avallato dal candidato sindaco Sbrocca. SEL fa un passo indietro. Dopo la conferenza stampa di ieri e l'assemblea del circolo, SEL ha ribadito la propria posizione con coerenza e forza. La posizione che noi abbiamo espresso dal primo giorno è stata e sarà sempre quella. Cioè noi non possiamo stare insieme a forze politiche e a uomini che hanno avuto ruoli importanti nella gestione del governo di questa città. All'interno del partito c'è chi parla di un vero e proprio tradimento delle primarie come Simone Coscia. Questo è un tradimento delle primarie. Significa che una forza, PD o che sia, ha accettato una situazione che non poteva essere minimamente accettata. E pertanto riteniamo che questo sia un tradimento dei principi e dei valori non solo delle primarie ma del senso di rinnovamento che queste forze avevano auspicato alla città. Cosa farà SEL? SEL rimarrà nella sua posizione di coerenza e pertanto bisognerà vedere quelle forze che accetteranno il loro ingresso, come giustificheranno questi ingressi e come potranno poi chiedere ai cittadini un cambiamento di una posizione politica, di un rinnovamento con una forza prettamente conservatrice. Dunque a poche ore dalle presentazioni delle liste SEL è fuori dalla coalizione, forse pronta a bussare alla porta di Libera Termoli e Rifondazione Comunista. Truffa e associazione a delinquere, questi reati di cui dovranno rispondere 10 persone coinvolte in un giro di polizze automobilistiche intestate a una Ollus di Venafro. Nel corso di alcuni controlli sono state riscontrate anomalie su alcune polizze assicurative. Alla motorizzazione Pentra erano state presentate richieste per la nazionalizzazione degli stessi veicoli. L'analisi della documentazione ha insospettito gli agenti della polizia che dopo gli accertamenti del caso hanno scoperto che i veicoli erano di proprietà di diverse persone fisiche, tutte residenti in campagna. Le indagini della Polstrada proseguono per individuare altri soggetti che avrebbero partecipato all'attività criminosa. Cambio al vertice dell'Agenzia regionale di protezione civile a sostituire temporaneamente Mastro Nardi, c'è ora Sandra Scarlatelli, già funzionario della Regione Molise e Servizio. Porta la data del 18 aprile la delibera di giunta che individua il sostituto temporaneo del direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile secondo quanto stabilito dalla legge del 30 aprile del 2012, la numero 12. Il direttore incarica Emidio Mastro Nardi e il terzo in ordine cronologico in poco meno di un anno. Dopo aver silurato l'architetto Gian Russo, al vertice arriva il coordinatore di Rialza Timolise, Riccardo Tamburro, seguito poi da Alberta Di Lisio. L'avvocato dura poco e viene sostituita da Mastro Nardi in attesa di pensionamento. E lo scorso 18 aprile la sostituzione con il nuovo vertice che finisce nelle mani di Sandra Scarlatelli, una carica che secondo il dettato dell'esecutivo è temporanea. Sostituisce Mastro Nardi almeno fino al 30 giugno, data di cessazione del rapporto di Mastro Nardi, che entra così nell'elenco dei pensionati molisani. Ancora una volta la Giunta individua un funzionario regionale in rispetto del contenimento della spesa pubblica. Nel frattempo, mercoledì, la protezione civile sarà a Roma per fare punto della situazione. Un clima di tensione si respira nei centri del cratere dove ancora oggi la ricostruzione è ferma. A giugno, intanto, bisogna presentare altri APQ per un importo complessivo di 90 milioni. E sempre la Giunta, nella stessa seduta, delibera anche l'ok all'approvazione di un accordo interistituzionale tra Regione, Protezione Civile e Comune di Pettoranello. La normativa regionale va a interfacciarsi con la proposta inoltrata dal Servizio Controllo Strategico, Riforme Istituzionali e Controlli Enti Locali e Subregionali. Il dettato è dunque l'estensione del DGR 121 dello scorso marzo. Hanno evitato il temuto pericolo di perdere 2,4 miliardi destinati alla sanità, ma non possono sottrarsi dal dovere di contribuire con 700 milioni al risanamento dei conti. Sono le regioni italiane che oggi, in una conferenza straordinaria dei presidenti, dovranno discutere sul come e dove tagliare. Il Premier Renzi ha dato 60 giorni di tempo per indicare dove procedere con i tagli, altrimenti a intervenire sarà il temuto commissario per la Spending Review Carlo Cottarelli. Se la Spending Review targata a Renzi non dovesse dare frutti sperati, si procederà con i tagli lineari e budget di comuni, regioni, province e ministeri. Pur essendo stati scongiurati, taglia la sanità, come ha chiarito lo stesso ministro della Salute Beatrice Lorenzin, per coprire il taglio IRPEF Stato, regioni e enti locali dovranno operare taglia la spesa per circa 2,1 miliardi e ciascuno contribuirà per 700 milioni. I risparmi previsti derivano da tagli in beni e servizi non sanitari, ovvero appalti, gare e contenziosi. Nello specifico, per quello che riguarda la spesa sanitaria, non si ridurranno farmaci né servizi alla persona, bensì si interverrà su gas, lavanderia, pulizie. Ogni regione avrà la possibilità di rimodulare al proprio interno liberamente, con i margini che ritiene necessario. Di qui la convocazione della conferenza delle regioni straordinaria prevista per la giornata di oggi. Tra l'altro, se le proposte di tagli non arriveranno dalle autonomie, entro 60 giorni interverrà il commissario per la spending, Carlo Cottarelli. L'ultimatum del governo non piace ai presidenti delle regioni italiane, tanto meno a Lanci, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che sperava nella fine della stagione dei tagli, così come promesso, o quantomeno una ridistribuzione tra municipi virtuosi e non. La Corte di Appello del Tribunale di Milano ha confermato i 17 anni di carcere per l'ex marito di Stefania, cancelliere la donna Isernina, uccisa nell'estate del 2012 a colpi di mattarello nell'androne di una palazzina di Legnano. Accolta così la richiesta del sostituto procuratore generale Daniela Meliota. Soddisfatti i familiari di Stefania e il loro legale che hanno commentato, uno sconto della condanna sarebbe stato assurdo, sarebbe stato inaccettabile vista l'efferatezza di quanto è avvenuto. Si è concluso da poco a Roma al Ministero del Lavoro il tavolo convocato per la vertenza ITR, l'incontro con l'assessore regionale Michele Petraroia, le parti sociali, l'azienda di Pettoranello e con una delegazione dei lavoratori è stato indetto per procedere all'esame sindacale congiunto finalizzato alla collocazione in cassa integrazione straordinaria per 12 mesi di circa 700 dipendenti. La collega Carla Ferrante ha raggiunto telefonicamente il signor Francesco Di Trocchio della CISL che ha parlato di una novità che riguarda il pagamento della cassa integrazione di cui si dovrebbe far carico l'azienda. Sentiamo. Giusto per avere un po' contezza di quello che è successo e di quello che sta succedendo a Roma per quanto riguarda l'avvertenza ITR, ovviamente cassa integrazione. Sì, straordinaria. Sì, mi dica. Per 12 mesi, quindi dal 3 aprile 2014 al 3 aprile 2015, per tutte le unità lavorative sia del sito di Pettoranello che l'outlet di Roccaravinto e gli altri outlet che ci sono in giro per l'Italia. Quindi è stata riconosciuta la cassa integrazione? Al momento si fa il verbale d'accordo al Ministero, poi comincia la fase istituzionale. Ecco, quindi per adesso… Questo è il verbale d'accordo, è un verbale d'accordo, la presenza delle parti sociali, l'azienda e il Ministero che prende atto. Poi da questo momento chiaramente comincia la fase istituzionale, la fase leverine, la verifica e l'approfondimento che spugge poi nel decreto da parte del Ministro di Rocco. C'è una novità nell'ultima ora che mi pare interessante, dal momento in cui l'istruttoria da parte dei funzionari del Ministero si esaurisce sui vari passaggi, vari step che poi si concludono con il decreto finale inviato all'Inps di Pettoranello e fino a quel momento l'Inps non può pagare, passano sei mesi, quattro o sei mesi, i lavoratori rischiavano di restare senza ammortizzatore sociale, senza copertine, tre mesi, con risposte drammatici non solo per le famiglie, ma anche per il tessuto economico e sociale della provincia di Piazza, perché chiaramente parliamo di famiglie che non consumano, se non consumano si rischia la chiusura a catena di tanti esercizi commerciali. L'azienda nel verbale d'accordo si impegna ad anticipare sei mesi di cassa integrazione straordinaria, quindi si impegna ad anticipare i primi sei mesi di cassa integrazione straordinaria e l'autorizzazione da parte del giudice Vassano. E questa mi sembra una novità importante. Certo, è una novità che dà anche un po' di ossigeno ai lavoratori e dà tempo ovviamente per dare il giudice. Noi stiamo sollecitando la convenzione, noi organizzazioni sindacali stiamo sollecitando la regione a che firmasse una convenzione con qualche seguito di credito locale, per mezzo del quale venissero anticipate le spessanze dei lavoratori nell'attesa del decreto ministeriale inviato all'impresi di cassa. Quindi a questo punto abbiamo la soluzione della criticità, chiamiamola così, perché non c'è più bisogno di detta convenzione, almeno per i lavoratori dell'ITR, in quanto l'azienda si impegna ad anticipare i sei mesi di cassa per un totale di sei milioni di euro, previo a un giudicamento e un'utilizzazione da parte del giudice Vassano. Giusto, con due battute, ma proprio due, il futuro dell'ITR o la nuova azienda? Sicuramente la vecchia ITR non esiste più, ci sarà un TR largamente ridimensionata e bisogna già cominciare a pensare agli esuberi e come garantire l'occupazione agli esuberi e in questo la regione deve farsene carico di responsabilità insieme all'organizzazione sindacale, cercando di mettere in piedi altri progetti oltre quello della OTI, perché la NUCO si chiama OTI. 51% delle quote a Rosati, 49 a Bianchi. Quindi resta ancora anche bianchi? Sì, 49% delle quote, 51 a Rosati. Ho un impatto nel medio termine di circa 140 lavoratori. Bene, io la ringrazio e ci riaggiorniamo, ci risentiamo, magari nel pomeriggio. Va bene, ok. Ok, grazie mille, buongiorno. Prego. Incontro dibattito presso la Sala Gialla della provincia di Isernia per rilanciare il settore della moda, un settore trainante per l'economia molisana. Tre le proposte avanzate, tra cui il riconoscimento di un distretto moda nell'area di Pettoranello del Molise per sviluppare una forma di cooperazione produttiva e commerciale con maggiore efficacia sul mercato. Sentiamo. Ripartire dal territorio per tornare a scommettere sulle proprie potenzialità, un primo obiettivo per rilanciare un settore chiave, quello della moda, un'iniziativa messa nero su bianco dall'associazione Euridit insieme alla provincia di Isernia per rimettere in piede le tante piccole aziende tessili e tentare di superare il difficile momento di crisi che ha messo in ginocchio anche il settore manufatturiero, fiore all'occhiello, fino a qualche tempo fa, dell'economia molisana. A questa si aggiunge la crisi del polo tessile di Pettoranello che rappresenta un duro colpo per il sistema moda molisano e nazionale. Tre le proposte avanzate per rilanciare il sistema moda in Molise, la costituzione di una rete di imprese per la produzione di abiti e accessori made in Italy al 100%, volta a creare una forma di cooperazione produttiva e commerciale con maggiore efficienza sul mercato. La richiesta di riconoscimento del distretto Moda per l'area di Pettoranello del Molise che ha rappresentato negli anni il cuore del sistema moda molisano ed infine realizzare sempre nell'area industriale di Pettoranello un incubatore laboratorio dove potrebbero trovare spazio altre piccole nuove imprese che verrebbero poi inserite nella rete dopo un periodo di formazione. Sono tre proposte articolate e comunque riconducibili a un unico disegno perché parlare di rete d'impresa significa prefigurare un nuovo modello di sviluppo di filiera, parlare di distretto Moda significa affrontare le attuali criticità appunto in una logica distrettuale e quindi di settore, non solo per un discorso di singola impresa, parlare di incubatore d'impresa significa parlare di un centro che sappia accogliere ma che sappia anche sviluppare servizi nei confronti delle aziende del settore. Quindi è una sorta di disegno unico ovviamente articolato su più proposte. Parliamo ora dell'Università di Via Mazzini, anche l'Ordine degli Avvocati di Isernia contribuirà seppur in parte al pagamento dell'affitto portando nell'aula magna della sede del centro storico corsi formativi e professionali che attualmente si tengono altrove e novità dell'ultima ora sembrerebbe che la curia Vescovile proprietaria dello stabile sia intenzionata ad abbassare il canone di fitto da 70 a 30 mila euro. Sentiamo. Anche l'Ordine degli Avvocati di Isernia è sceso in campo per cercare di salvare la sede universitaria di Via Mazzini. Questa mattina in un incontro svoltosi nella sala consigliare del Tribunale Pentro tutti i presidenti degli ordini professionali di Isernia e provincia hanno dato conferma concreta della loro disponibilità e alla stampa il presidente dell'Ordine degli Avvocati Marciano Moscardino ha annunciato di voler organizzare tutti i corsi formativi e altri eventi professionali che fino a oggi si sono tenuti in altre sedi nell'aula magna dell'Università del centro storico Pentro portando così nelle casse dell'Unimol circa 7 mila euro l'anno. L'Ordine degli Avvocati di Isernia ha convocato tutti i presidenti degli ordini professionali della provincia di Isernia che deve essere il primo nucleo, deve essere il primo gruppo che verrà costituito per cercare di salvare l'Università di Isernia. Ovviamente poi estenderemo questi incontri anche alle associazioni, anche ai gruppi. Io pensavo per esempio quando parlavo informalmente con voi, pensavo ai Lions, pensavo ai Rotary, pensavo all'Archeoclub, tutte le associazioni che ci sono nella provincia di Isernia potrebbero organizzare eventi formativi, incontri presso l'Università. Ma non è tutto, è prevista infatti anche la costituzione di una scuola forense. Per quanto riguarda il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Isernia, noi abbiamo in animo di costituire la scuola forense a Isernia. La scuola forense significa che è una scuola per formare i giovani avvocati che poi dovranno sostenere gli esami di avvocati, ma non solo. La scuola forense abbraccerà anche altri argomenti, anche altri cambi. Buone notizie infine arrivano anche dalla Curia Vescovile, proprietaria dello stabile che attualmente ospita le facoltà di scienze politiche e beni culturali. La diocesi di Isernia Venafro infatti sarebbe pronta a ridurre il cannone di fitto da 70 a 30 mila euro. Ma l'atto che formalizzi quanto detto la Curia all'Unimol dovrà inviarlo entro il 30 aprile prossimo, termine ultimo per indicare la sede dei corsi di laurea per l'anno accademico 2014-2015. Continuiamo a occuparci di istruzione e scuola. La FLC CGL ha denunciato i ritardi per i pagamenti dei progetti legati alle aree a rischio. Poche le risorse per attuare politiche di integrazione dei bambini immigrati per arginare l'insuccesso scolastico e l'abbandono precoce. In Molise ogni anno dai 245 ai 260 ragazzi lasciano la scuola dell'obbligo e abbandonano gli studi, ha affermato il segretario del sindacato Giuseppe Lafratta, che ha chiesto la revisione delle politiche dei tagli e delle riduzioni operate negli ultimi anni. Cambiamo argomento, parliamo ora di libri. In libreria e negli store online, l'ultima fatica letteraria dello scrittore molisano Carmine Aceto. Le cose sbagliate è un romanzo in cui si intrecciano storie di personaggi alla ricerca dei propri obiettivi. Sentiamo. Carmine Aceto, le cose sbagliate, l'ultima fatica letteraria. Di cosa parla questo romanzo? Ma è una storia dedicata agli sbagli, agli sbagli di una vita, o forse sarebbe meglio dire di più vite, quelle dei personaggi che vengono raccontati all'interno di queste pagine. Pagine che cercano di raccontare la normalità, ma anche la precarietà della vita quotidiana e contemporanea, e che in qualche modo si cerca di esorcizzare con delle mosse a sorpresa, che però a loro volta sembrano più che altro degli ulteriori sbagli. Tanti mondi che si incontrano, dalla musica alla letteratura, al mondo delle biblioteche. Ma sono un po' le passioni dell'autore, come si suol dire. Ovviamente vengono trasfigurate in maniera, direi, totale, quando poi si scrive una storia che è inventata, è frutto di un processo di masticazione del quotidiano. Ecco, un romanzo che è disponibile anche in versione digitale. Sì, in effetti è uscita prima la versione digitale il 31 marzo, su tutti gli store online, e poi la versione cartacea, che è disponibile dal 15 aprile, qui a Campobasso, presso la libreria Manzoni, e a Termoli presso la libreria Fahrenheit. Mai come in questo periodo, la lettura digitale viene in qualche modo sospinta e anche incentivata come una nuova frontiera per migliorare anche le possibilità di fruizione culturale. Tant'è che quest'anno la giornata mondiale del libro e del diritto d'autore ha come slogan proprio legalizziamo la lettura digitale in biblioteca. Ecco, perché leggere le cose sbagliate? Perché leggere non è mai una cosa sbagliata. Apriamo la pagina sportiva con la Serie D al lavoro per la sedicesima giornata di ritorno turno decisivo per le Molisane. Il Termoli a caccia della seconda posizione l'Agnonese e l'Isernia di punti salvezza il servizio. La sedicesima giornata di ritorno del campionato di Serie D sarà un turno decisivo per le Molisane. In settimana massima concentrazione e lavoro intenso per cercare di arrivare agli impegni di domenica al meglio della forma. In casa Termoli si cerca di gestire le energie residue per affrontare l'ultimo turno di campionato in previsione del fatto che nell'ultima giornata i giallorossi acquisiranno i tre punti senza scendere in campo contro il Boiano. Un inizio settimana soft per la truppa di Giacomarro che ha effettuato prevalentemente lavori di defaticamento poi si è tornati sul solito carico di lavoro. Giallorossi al completo sotto gli ordini di un attento Giacomarro a parte solo Nigro che comunque domenica sarà della partita. Quella contro la Iesina per i giallorossi è l'ultima fatica di questo campionato. Un campionato tra alti e bassi ma che comunque ha confermato la formazione adriatica tra le prime della categoria. Ora non resta che un ultimo sforzo e sperare in un aiuto dell'Agnonese che affronterà il Matelica. Proprio gli altomolisani in questo turno sono chiamati a chiudere la pratica salvezza diretta in una partita non proprio facile sulla carta contro una delle squadre rivelazione di questa stagione. In casa Granata destano preoccupazioni le condizioni di Di Benedetto. La punta dopo un ricovero in ospedale non sembra in grado di poter scendere in campo domenica e questa assenza pesante si andrà ad aggiungere a quelle di Wade e Rolli. Insomma quella contro il Matelica per Urbano sarà l'ennesima partita in emergenza ma la posta in palio è troppo alta e conta solo vincere senza se e senza ma. All'andata la partita è stata vinta dai marchigiani ma gli altomolisani sono assetati di vendetta e di voglia di permanenza in Serie D. Ed infine Lisernia che va a Recanati a caccia di punti per disputare i playoff. Contro i marchigiani non sarà facile all'andata è finita con un pari ed il ritorno si preannuncia scoppiettante con un'Isernia che nonostante una stagione difficile sta dimostrando giornata dopo giornata grande attaccamento ai colori bianco-celesti. In casa a Isernia arriva una nuova tegola proprio quando l'impresa di salvarsi attraverso i playoff sembrava possibile è arrivata la stangata della Commissione Disciplinare Nazionale. Due punti di penalizzazione 3.000 euro di multa e 9 mesi di inibizione per il Presidente Petrarca. Sono queste le sanzioni inflitte all'Isernia per il mancato pagamento delle vertenze presentate dagli ex Guglielmi Fusaro, Capozzo e Calabrese. Con questa penalizzazione l'Isernia è condannata quasi sicuramente alla retrocessione diretta essendo tornata dietro la Renato Curiangolana con un consistente distacco dalla quintultima posizione. A due giornate dalla fine del campionato di eccellenza con il Campobasso imbattuto e già promosso in Serie D resta da decidere l'eventuale griglia dei playoff e dei playout nel caso in cui la differenza di punti tra la seconda e la terza in questo caso Gioventù Calciodauna e Fornelli sia di almeno 10 punti i pugliesi si qualificherebbero direttamente agli spareggi nazionali servizio. Mancano due giornate alla fine del campionato e qualche verdetto è già stato emesso. Il Campobasso di Farina fresco di triplete completato tre settimane fa a Montenero dopo la conquista di Coppa Italia regionale e nazionale è già promosso in Serie D ed è proiettato alla prossima stagione ma onorerà il torneo fino alla fine per chiuderlo senza sconfitte. Da definire invece l'eventuale griglia dei playoff. Tra Monti Dauni seconda e Fornelli terza adesso c'è un divaro di 12 punti e, stando così le cose, i pugliesi accederebbero direttamente agli spareggi nazionali avendo 10 o più punti di vantaggio sulla terza e le altre due candidate agli eventuali playoff sarebbero Sesto Campano e Venafro. Nella zona bassa della classifica invece otto squadre sono racchiuse nello spazio di 10 punti. Si parte dai 21 del Montenero Fanalino di Coda fino ad arrivare ai 31 del nuovo Montaquila che ha 5 punti di vantaggio sulla zona play-out composta da Sant'Eliana, Comprensorio Vairano, Alife e Virtus Pozzilli. Squadre queste divise da pochi punti in piena lotta per la salvezza diretta o per la migliore posizione possibile in caso di play-out. Spareggi che il regolamento alla mano ci sarebbero perché la terza ultima, Alife, ha un solo punto di vantaggio sulla Virtus Pozzilli che ne ha a sua volta 3 sul Montenero che è ultimo. Dunque, a due giornate dalla fine, nulla è scontato e ci sarà ancora da sudare e faticare per chi deve ancora raggiungere gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Ed ora una notizia di basket. Questa sera torna in campo con la farmacia Sardella Venafro di coach Arturo Mascio, ospite dei Salentini per la seconda giornata della fase ad orologio del Girone D. I Venafrani pronti dunque a far visita al Monteroni forte a livello psicologico del successo di giovedì scorso contro il Cus Taranto, il secondo consecutivo dopo l'exploit a Ceglie messa a pica in casa del Francavilla. E con questa notizia di basket è tutto. Grazie per l'attenzione e vi lascio ora alle previsioni del tempo. Arrivederci. Il meteo è offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. Previsioni del tempo per venerdì 25 aprile. Pressioni medio-alte rinnovano condizioni di tempo parzialmente soleggiato fatta eccezione per qualche isolato fenomeno di urno sull'Appennino Molisano. Maggiori annuvolamenti giungeranno però in nottata con fenomeni sparsi temperature stabili venti deboli settentrionali in attenuazione mare mosso. Campobasso minima 11 massima 20 gradi Isernia minima 11 massima 20 gradi Termoli minima 14 massima 22 gradi. Il meteo è stato offerto da Burger Prince Fast Food vi aspetta nella zona industriale di Campobasso adiacente al cinema maestoso. di Campobasso il meteo è stato offerto da è stato offerto da Alessia di Campobasso di Campobasso o all'Italia in on